Befana, il poliziasap, eccoci qui, ci troviamo con un grandissimo, vediamo se vi ricordate chi è Lo diciamo? Eccoci, ci avete riconosciuto? Chi siamo? Chi sono? Lo sappiamo tutti quanti Facciamo un tuffo nel passato Andava a piedi nudi per la strada Questo era passato, presente? Lo faremo Chissà se lei mi pensa, tra pochi giorni uscirà il nostro primo singolo, seguito poi dagli altri dieci inediti entro il fine febbraio Scritto da me e da un amico in comune, Manuele Rosati E mi raccomando, cliccate, cliccate, comprate e seguiteci sulle nostre pagine Facebook e iTunes Sarà in vendita in digital da l'oltre La pagina ufficiale è Nick Luciani Nick Luciani Ecco qui, abbiamo visto la grandissima sorpresa Storelli Luca Storelli e Nick Luciani E Nick Luciani Allora noi vi ringraziamo, vi aspettiamo tutti quanti Ricordiamo le date Le date è entro il 25 gennaio Primo singolo, chissà se lei mi pensa Ricordatelo e acquistatelo E ascoltatelo, ciao Grazie, ciao Ciao Ciao